meteo variabile aste da pioggia per l'incipit di una delle più belle gare italiane al campionato nazionale open 109 tigri sul percorso che sin dalle prime luci dell'alba attaccano aste intriganti ma ancora accessibili la mattina loro in bocca al golf club le fonti si segue il bomber luca cianchetti per sbirciare da vicino i suoi drive ed il meno 4 consegnato senza paura ma il calore del sud italia oggi ad accecare l'alta classifica il talento al nome di francesco la porta su il giro del re con sette colpi sotto al par giocati con la tranquillità tipica dei tour maggiori eleganza tattica ed esperienza accompagna nel suo primo round ammirato con devozione dall'amatro giovanni manzoni meno 4 sempre pronto a farsi notare ai blocchi di partenza ottimo come sempre round di jacopo vecchi fossa il vecchio la salunga gioca concentrato raffiche di birdie per lui per un meno 6 che lo accompagna nell'ottima seconda posizione è una festa italiana il nazionale open dove la crescita di tutto il comparto azzurro supera la barriera amateur pro esprimendo tutto il potenziale dei nostri portacolori ed è un grande momento per chi vuole provare il nostro sport che apre le porte a tutti mettendo a disposizione maestri spazi e giochi divertenti per i più piccoli domani la gara entrerà ancora di più nel vivo con cambi improvvisi di classifica e qualche attacco dalle retrovie che siamo sicuri arriverà puntuale i campioni sono divertenti e da vicino tutto ha un sapore diverso noi siamo qua tra swing d'autore e l'atmosfera intensa tipica dei più grandi tornei di golf swing your life eccoci eccoci Grazie.